Aveva solo 15 anni, calogero di Stefano. La sua giovane vita è stata stroncata oggi pomeriggio da un incidente stradale. Il giovane residente nella frazione agrigentina a bordo del suo ciclomotore è stato travolto da un'autovettura. Balzato dal mezzo a due ruote è finito pesantemente a terra. Subito a soccorso è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio, dove è deceduto prima dell'arrivo. Troppo gravi le ferite riportate. Il decesso sarebbe avvenuto per un trauma cranico e toracico. Sul posto hanno lavorato i vigili urbani della sezione infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Appresa la notizia, sconvolta l'intera comunità di Villa Seta, il luogo della tragedia è stato altre volte teatro di incidenti stradali mortali.